nuovo pacchettino all'orizzonte no non all'orizzonte ce l'abbiamo qui in questo momento ringrazio gear best per avermi mandato questo pacco non so esattamente cosa sia perché ne attendevo 3 4 e quindi non so bene che cosa mi possa essere arrivato oggi comunque subito dopo la sigla insieme lo spacchettiamo bene lo spacchetto qui davanti a voi e poi a banco insieme andiamo a vedere i dettagli di questo prodotto comincia subito a distruggere la carta eccoci qua togliamo l'involucro esterno di hl è ben confezionato spero di non dover usare forbici o cose strane che in questo momento non ho ce l'ho fatta bene altra parte esterna tolta ce n'è un'altra ragazzi vediamo ci sarà qualcosa dentro è una scatola cinese battutaccia intanto ringrazio tutti quanti per la live saluto tutti i nostri amici dei gruppi cena di san france malati di smartphone honor 20 più 20 gli amici del gruppo dello zio bob e lo zio bob bob x group andatevi a scrivere al gruppo e anche al canale dello zio ecco abbiamo uno smartphone che aspettavo onestamente da un po vi leggo le caratteristiche tecniche che potete vedere tranquillamente già da qui vi lascio qualche secondo per leggerle abbiamo il cubot x20 pro una novità che si aggira attorno ai 136 euro era stata questa l'offerta lancio è uno smartphone di questa casa cinese che non lo so vediamo se promette bene se ha qualcosa di speciale se ha qualche chicca se davvero hanno fatto un passo avanti se invece la solita minestra insomma stavolta cubot non devi farmela grossa altrimenti non ci siamo comunque ve lo faccio già vedere apro la scatola ve lo faccio già vedere all'istante qui sulla scatola dice 6.3 pollici full hd plus rapporto 19.5 noni sulla carta è buono trattamento anti acqua e anti polvere il vetro vedremo sai di qualità 6 giga di ram e 128 interni di storage presumo espandibili ecco qua casca forse l'asino anche se io non sono prevenuto sui processori mediatek lo sapete perché prima di dire funziona bene funziona male proviamolo nel quotidiano diamogli una chance mediatek mt 6771 octa core sul retro abbiamo tre fotocamere posteriori 12 più 20 più 8 megapixel e flash led front camera camera frontale da 13 megapixel type c su un dispositivo di fascia bassa incredibile batteria integrata da 4000 mAh sulla carta ragazzi non fa una piega vedremo se le fotocamere sono vere se scattano se non scattano se l'effetto profondità esiste se c'è la grande angolare che esiste davvero una roba software insomma io sono incuriosito da questo cubo x20 però perché davvero stavolta non mi deve cascare l'asino è il tutto con android 9 pai a bordo e andiamo a vedere cosa c'è nella scatola prima di passare allo smartphone qui abbiamo il tupperello ragazzi tupperello tupperello qua nella bustina immancabile cavo usb usb c trasformatore di ricarica piccolino griffato cubo con uscita a due per eccolo qui con tanto già di custodia inserita io apro la scatola e ho il mio smartphone già dentro la sua custodia uno smartphone che ha un peso considerevole saranno almeno 190 grammi tolgo la pellicola e sotto c'è già la sua di protezione per il vetro questo ragazzi potrà essere un dispositivo che sarà messo in palio al prossimo contest non appena arriveremo a quota 15.000 iscritti ragazzi abbiamo già una micro bolla nella pellicola che sta sotto ma pazienza quello penso che sia il meno togliamo la custodia perché voglio vedere com'è fatto questo smartphone che non mi nascondano delle insidie c'è una pellicola anche dietro la vado a togliere c'è anche sulla fotocamera perché è protetta da un vetro fotocamera tripla tolgo la pellicola che sta dietro e ragazzi vi devo dire che stavolta cubot non ha messo il solito retro in plasticona ma abbiamo ebbene si udite udite abbiamo vetro questo è vetro ragazzi è assolutamente vetro qui particolare della fotocamera poi andremo a vedere come si comporta si lo accendo e a banco insieme lo andiamo a vedere bene però intanto vi siete fatti un'idea subito dopo comunque la sua cover è fatta molto bene devo dire è positiva questa cosa perché è un tpu bella resistente rigida qua c'è il buco enorme quadrato perché contiene anche il flash led andiamo a vedere i dettagli della fotocamera sperando che siano tre obiettivi veri e non fasulli andiamo poi dopo a verificare perché vogliamo dire le cose come stanno qua abbiamo vetro che trattiene un'infinità di ditate però è davvero vetro non è plastica ve lo garantisco e un frame in alluminio stondato quindi a livello costruttivo anche se un bel mattoncino devo dire che è fatto molto bene all'estetica diciamo che lascia un po desiderare perché a me questo modulo quadrato buttato lì sulla sinistra a me non fai pazzire vi dico la verità a livello di design però devo dire che comunque è tutto pulito le fotocamere sono messe ad angolo retto e non buttateli a casaccio che poi piaccia o no quello è un altro paio di maniche adesso vediamo come fatto e lo accendo con nici vedete non sono esageratamente ampie è un ips full hd plus andiamo a vedere col tuperello se è espandibile oppure no sì è espandibile rinunciando a una delle due nano sim andiamo a configurarlo subito mettendo la nostra lingua italiano italia classica interfaccia android stock bel colore devo dire questo blu per il momento mi piace poi vedremo come fatto il display inizia ignora in questo momento il prezzo di questo dispositivo è aumentato perché la promozione lancio che era di 136 euro adesso in questo momento è aumentata a 146 è comunque un buon prezzo con i nostri coupon si può scendere tranquillamente il feedback della vibrazione è un pochino zanzaroso ma ci sta in questi dispositivi anche se la reattività non è male devo dire poi vedremo come si comporta questo processore ripeto non sono prevenuto a bordo comunque abbiamo 6 giga di rame 128 di storage interno perciò a livello hardware non è veramente da buttare via perché abbiamo un helio p60 e con android 9 una batteria non removibile da 4000 mAh perciò insomma va provato sul campo soprattutto a livello di fluidità generale usabilità e fotocamera i sensori ci sono tutti accelerometro sensori di prossimità di gravità riconoscimento facciale giroscopio sensore di luce ambientale gps glonass bay du galileo per quanto riguarda i satelliti bluetooth 4.2 non 5 e abbiamo anche la banda b20 800 megahertz a bordo quindi è adatto anche alle nostre reti andiamo con un backup dalla cloud e ovviamente multilingua ed è espandibile fino a 128 ulteriori giga 6.3 pollici ricordo le misure è dotato anche della funzione otg e andiamo a ripristinare tutto vediamo quali backup mi dà a disposizione 3 giga e 7 di ripristino andiamo avanti il peso è 200 grammi e si sente vi garantisco che anche rispetto al oneplus 7 che ho lì si sente in mano però dà la sensazione comunque di avere in mano qualcosa di bello solido vi dico la verità non è un plasticone non è uno schifoso cinesone come quelli che abbiamo visto diciamo negli ultimi tempi devo dire che stavolta almeno a livello di materiali e a livello estetico la costruzione e l'assemblaggio e un po il touch and feel generale devo dire che cubot in questo frangente ha lavorato bene c'è tutto il resto ancora da verificare le dimensioni del prodotto 15,71 x 7,46 x 0.8 cm quindi non è molto spesso qua e viene pompato questo x20 però come un telefono rivoluzionario dal punto di vista della fotografia quindi sarà sicuramente la prima cosa e l'aspetto principale sul quale andremo a focalizzare le nostre energie perché se tu ti fai pubblicità dicendo che finalmente hai fatto venire fuori un dispositivo che fa delle foto eccelse allora il tuo reparto fotografico non deve essere proprio scarso dice addirittura lo slogan facile diventare un fotografo professionista con questo telefono vedremo se è davvero così tanto che lui ripristina le fotocamere sono tre moduli uno un modulo da 8 megapixel questo qua in alto ultra grandangolare con apertura di 125 gradi nell'angolo un sensore sony imx 486 da 12 megapixel con autofocus a rilevamento di fase e invece un altro sony imx 350 da 20 megapixel per l'effetto profondità e bokeh e questo è il flash led davanti abbiamo invece un altro sony imx 214 da 13 megapixel per la fotocamera selfie super ficus e andremo a vedere come funziona è dotato di una scheda video mali g72 mp3 android 9 come detto e helio p60 a bordo ecco finalmente ci siamo connessi alla nostra interfaccia andiamo ad aumentare la luminosità che non è altissima devo dire subito così a primo impatto abbiamo il classico android stock si con questo tipo di gesture e poi vedremo anche a livello di audio che mi sembra mono qua c'è il tasto on off il bilanciere del volume sotto speaker di sistema usb type c altro microfono e carlino delle sim non c'è altro sopra non ci sono gli infrarossi e non c'è nemmeno un altro microfono per la soppressione dei rumori quindi non lo so vedremo come sono le telefonate perché ricordatevi che prima di tutto le telefonate sono la cosa più importante in uno smartphone anche se la cosa ormai fa un po ridere mai così qua c'è un led di notifica incastonato dentro la capsula auricolare guardate che lampeggia forte questa cosa è una trovata sicuramente interessante vediamo promette 347 ore in stand by vedremo se la batteria è all'altezza della situazione intanto andiamo a vedere le impostazioni di sistema dopo metteremo l'impronta digitale che dovrebbe essere vediamo se ha l'impronta digitale da qualche parte non mi sembra ha solo lo sblocco facciale quindi già questa è una cosa che è un po mistona perché l'impronta digitale sapete che è molto più sicuro rispetto a un riconoscimento facciale 2d perciò vediamo subito se c'è la possibilità ma non mi sembra che ci sia l'impronta digitale infatti c'è solo lo sblocco volto che andiamo a impostare subito quindi l'impronta digitale non c'è avviamo la registrazione del volto ok infatto adesso andiamo alla home e cerchiamo di sbloccare per vedere come e se ci riconosce al volo sì devo dire che è abbastanza veloce sblocca subito ragazzi devo dire non c'è l'impronta grossa lacuna ma c'è un buon riconoscimento volto così a primo impatto andiamo a vedere nelle impostazioni di sistema intanto sento che scaldicchia già qua dietro perché il nostro amico il nostro buon helio p60 informazioni sul telefono aggiornamento firmware verifichiamo se ce ne sono il sistema aggiornato strano è mai una volta che quando apro uno di questi telefoni mi dica che devo aggiornarlo pressione 9 poi guardiamo subito la fotocamera faccia subito una foto di test perché se mi dicono che la fotocamera è dotata anche di uno zoom ottico 2 per guardate questa è la camera grandangolare il grandangolo funziona davvero adesso invece se vado in impostazioni o la 12 megapixel proviamo una foto al volo proviamo l'autofocus vedere quanto ci mette a mettere a fuoco sembra abbastanza veloce devo dire la verità anche se è un leggero rimbalzo lo scatto è veloce e non è affatto male devo dire di giorno proveremo anche di notte adesso proviamo anche la grandangolare vediamo un attimo come se la cava inquadriamo anche la scatola fatto sembra non comportarsi malissimo e devo dire adesso poi proveremo meglio c'è la modalità bellezza carino bokeh e poi c'è anche una modalità dedicata notturna oltre che la modalità però vedremo come se la cava in modalità notturna perché sono davvero curioso di vedere se le foto sono all'altezza della situazione per questo prezzo non è male devo dire che a livello di assemblaggio di materiali mi aspettavo sicuramente peggio ma allo stesso prezzo chiediamoci una cosa abbiamo ancora il redmi note 7 che è uno smartphone favoloso vale la pena prendere questo cubot x20 però non lo so lo proveremo nel quotidiano e faremo una recensione intanto qua dietro è bollente ragazzi il p60 scalda per il momento è tutto e ci aggiorniamo ai prossimi appuntamenti un salutone ai nostri gruppi di telegram li trovate sotto in descrizione e i nostri canali youtube partner canale dello zio lo zio bob max recensioni fondlo d'italia passione smartphone saluto il nicola di must man e anche agnello tortora del negozio il cellulare di pagani un ringraziamento speciale a gear best per averci mandato questo dispositivo ci vediamo al prossimo video ciao ciao